allora eccoci qui per tutti quelli che non hanno capito il procedimento è semplicissimo domopac alluminio aceto e olio di gomito e poi ma se ho fatto parte del pezzo di video che scende però forse lui ce l'ha da attaccare per vedere che sta cosa io lo vivo ovviamente nei punti dove la cromatura è saltata del tutto rimarrà comunque segno ma molto meno evidente di prima qua abbiamo ancora delle rugine ecco qua ma niente che vedere con prima però non ho grazie a tutti